Baldagno, i carabinieri della stazione di Recoaro impegnati nella vigilanza in zona Ponte di Nori, Piana e Gasdotto si fermano in un'abitazione per effettuare degli accertamenti. Ad aprire la porta un uomo di 45 anni molto sbrigativo ed evasivo. Il suo atteggiamento insospettisce i militari che avviano una perquisizione domiciliare e trovano nel giardino di casa 20 piante di marijuana alte un metro e mezzo pronte per la raccolta. Nell'appartamento i carabinieri trovano anche materiale per il confezionamento della marijuana, un bilancino elettronico di precisione e sorprendentemente anche 5 cartucce calibro 12 e una calibro 28. Il tutto viene sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti. L'uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana e dovrà rispondere di illecita detenzione di munizionamento.